Il sindaco di Gela Domenico Messinese è candidato alla presidenza del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, capo di una lista che potrebbe fare prove tecniche di più ampia intesa tra il Movimento di Cardinale, l'area renziana del Partito Democratico e il Movimento di Crocetta, e il sospetto del Comitato Gelensis Populus che già il 16 luglio scorso aveva invitato, e oggi continua ad invitare, il sindaco ad astenersi dal partecipare alle elezioni di secondo livello per coerenza. Chi sostiene Messinese nella scelta di accettare la candidatura si giustifica dicendo che sarebbe, in vero, l'unico e giusto contrappeso allo strapotere di Caltanissetta che, in assenza di alternativa, prenderebbe tutto ad armi basse. Ma siamo sicuri che sia questa la vera ragione? Gelensis Populus non ci sta. A noi di Gelensis Populus, dice il portavoce Liliana Bellardita, quello che il sindaco nelle prossime ore deciderà interessa e interessa non poco, ma interessa anche alla città di Gela e ai cittadini gelesi sempre che le elezioni di secondo livello negli enti intermedi si terranno, viste le sempre più insistenti voci per limitare, di rinvio tecnico vista la mancanza di intesa politica tra le varie forze nella composizione della liste. Tutti i passaggi di interlocuzione devono doverosamente essere resi noti e chiari, così come devono doverosamente essere resi note e chiare le ragioni del sindaco, e questo perché temiamo che questo passaggio sia un ennesimo tentativo di trovare accasamenti o posti in prima fila alle prossime regionali o di giustificare eventuali comitati di affari che guardano con attenzione alle novità politiche e ai finanziamenti in arrivo. Gelensis Populus, che ha ideato anche una vignetta metaforica, non può accettare che Gela venga svenduta o barattata anche questa volta. Si faccia dunque subito chiarezza.